La reggiana non se ne avvede La reggiana non se ne avviene Per tutto il primo tempo il Lecce si difende con dignità senza soffrire eccessivamente ma senza nemmeno avvicinarsi più di tanto alla porta di Taffarello. La ripresa non porta cambiamenti tattici significativi se si esclude una maggiore mobilità del Granata Cherubini che si trova a fronteggiare il gioco incrociato delle punte del Lecce Baldieri e Russo. È proprio un'invenzione di Cherubini che dialoga con maestria, conoscenza a consentire a Padovano di realizzare l'importantissimo gol vittoria alla 26esima. Per Padovano è la 32esima rete in 100 partite disputate in Serie A, una media di un gol ogni tre incontri. Passato in svantaggio Marchesi fa entrare il ghanese Ayu al posto di Russo per dare maggiore mobilità all'attacco. Alla 37esima il giocatore africano si esibisce in una rovesciata che non coglie però di sorpresa Taffarello. La sfortuna si accanisce contro la Reggiana. A tempo quasi scaduto il rumeno Mateut viene falciato da Gerson. Nello scontro riporta una forte contusione alla caviglia sinistra con stiramento dei legamenti. Per lui, come già successo per Futre, la luce del Mirabello si riaccenderà soltanto nel 94.